buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è 9 giugno siamo a metà settimana oggi è giovedì il sole è sorto alle 5 25 tramonterà le 20 e 49 stiamo avvicinandoci al sostizio d'estate e ancora le giornate si allungano insomma di qualche secondo vediamo qual è il santo del giorno per iniziare la giornata e nelle libro dei santi troviamo sant'efrem di siria nacque sotto l'imperatore costantino era figlio di un sacerdote pagano che abbracciata lui e frem la fede cristiana fu costretto ad abbandonare la sua casa la sua famiglia era di grande ingegno era un ragazzo di grande ingegno quindicenne aprì una scuola di sacra scrittura annisibi la località dove era nato e difese eroicamente la sua città durante l'assedio che portò con le truppe il re dei persiani sapore secondo condusse una vita cenobitica ma non cessò di predicare il vangelo anche appunto al di fuori del suo convente e lasciò molti scritti commenti biblici inni poesie e fu santificato da benedetto quindicesimo nel 1920 e proclamato dottore della chiesa appunto per i suoi scritti per le sue parole illuminate vediamo anche le previsioni del tempo dove invece il cielo sereno dei giorni scorsi ha lasciato il campo a delle nubi questa notte è piovuto in provincia di pesaro instabile il tempo di oggi con rovesci e temporali sparsi non sono escluse locali grandinate attenzione temperature in calo le massime non saliranno oltre i 23 gradi quindi fa più fresco rispetto ai giorni scorsi i venti ispireranno sulle coste da una direzione da nord mentre all'interno da nord nord ovest ed ora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano dove vediamo che ieri si è presentata un'iniziativa da parte dell'amministrazione comunale che riguarda il settore dell'energia municipio e città sostenibili si istituisce l'ufficio energia era questo un obiettivo perseguito da tempo in modo particolare sponsorizzato dalla consigliera comunale cora fattori cora fattori che ieri era presidente all'incontro era presente con all'incontro con la stampa insieme a due tecnici cui il comune ha affidato appunto le consulenze per quanto riguarda questo settore e all'assessore brunori che un po' l'assessore all'ambiente l'amministrazione fanese dà il proprio esempio attivando un nuovo edificio energia che si avvale della collaborazione della società di ingegneria enereco il mandato è dunque ottimizzare il fabbisogno energetico della macchina comunale e rilanciare le politiche di settore dell'ente locale e vedremo se tra qualche tempo qualche pannello solare spunterà sugli edifici comunali come le scuole come appunto la sede del comune stesso vedremo appunto come questo progetto ideale si trasformerà nella pratica oggi la giunta valuta le misure per i pescatori e i pescatori fanesi sono ancora in sciopero hanno chiesto all'amministrazione comunale di sostenere la loro causa sensibilizzando il governo perché giunga in aiuto appunto a questa categoria tormentata però che possa applicare anche dei provvedimenti diretti come per esempio degli sconti sulle bollette è tutto ciò che può aiutare le famiglie che in questo periodo sono senza reddito e poi il Corriere parla dell'interquartieri parla dell'interquartieri perché il vicesindaco Cristian Fanesi ha reagito ovviamente alle provocazioni lanciate da un suo compagno di partito ovvero Renato Claudio Minardi che fa parte di una diciamo così una corrente alternativa a quella a cui appartiene lo stesso Cristian Fanesi quindi la presa di posizione di Minardi sa molto di posizione politica appunto secondo l'opposizione secondo il vicesindaco perché lui dice che la data della fine dell'anno sarà tranquillamente rispettata dall'amministrazione comunale per quanto riguarda i tempi degli interquartieri una realizzazione questa che rimane sempre contestata dall'opposizione perché insomma quella quell'arteria costituisce una invasione molto molto problematica di un contesto ambientale al momento integro e quindi problematico anche un articolo di cronaca questa mattina a fondo pagina del Corriere una sedicenne è stata investita in un incrocio di per sé problematico una volta era corredato di un semaforo poi è stato invece tolto questo semaforo è lasciato a un stop evidenziato con la segnalettica orizzontale che generalmente le auto rispettano invece in questo caso un furgone non ha rispettato lo stop oppure la ciclista non ha rispettato lo stop perché tutte le strade che si incrociano hanno lo stop ciascuna appunto disegnata sull'asfalto ancora non sappiamo di che è la causa di questo incidente fatto sta che una ciclista fanese di 16 anni ieri intorno alle 14.30 è rimasta coinvolta in un incidente stradale appunto all'incrocio tra le vie Squarcia e via Fanella un incrocio dicevo problematico e veniamo ad un'iniziativa su quest'articolo di Spalla corto e mangiato il meglio di dieci anni al parco del Fagiano di Fenile e questa è un'iniziativa che si era già svolta negli anni passati poi era stata interrotta dalla pandemia ora la si riprende è il festival dedicato al biologico si terrà a Fenile di Fano nel parco del Fagiano una rassegna di cortometraggi dedicata al cibo di qualità l'iniziativa è in programma domani alle ore 20 saranno proposti dieci cortometraggi per la durata totale di 70 minuti selezionati dalle dieci edizioni della rassegna incentrata sulla sostenibilità ambientale quindi anche il cibo si riferisce riguarda appunto questo principio della sostenibilità e ieri la Fondazione Carifano ha presentato nell'ambito delle iniziative del suo trentennale 30 più 30 generazione futuro una nuova attività dedicata ai giovani quattro giorni di immersione in digitale, start-up e storytelling sono appunto i settori dedicati, preferiti, privilegiati dalle giovani generazioni quattro giorni che si terranno dal 30 giugno prossimo al 3 luglio a Palazzo Bracci Pagani e si dedicheranno a diverse tematiche sono incontri, sono mostre sono tutto ciò che interessa ai giovani dal punto di vista digitale, delle tecnologie avanzate e ce n'è una in particolare che ieri è stata illustrata ai giornalisti di particolare evidenza ovvero la possibilità di guardare con un telefonino tramite il QR code un quadro, uno dei quadri costuditi dalla Fondazione Carifano nella Pinacoteca di San Domenico come se uno entrasse dentro il quadro grazie appunto alla tecnologia virtuale e grazie alla terza dimensione si entra dentro il quadro, si gira tra i personaggi e si vedono anche parti nascoste che guardando tranquillamente il quadro davanti non si vedono e quindi sono cose molto molto interessanti che accattiveranno proprio i giovani e veniamo a Fossombrone dove l'amministrazione comunale ha deciso di agire per quanto riguarda gli alberi che si dilungano su via della resistenza una filza di alberi che ha ormai una settantina di anni di età però vediamo che il comune ha deciso di abbatterli tutti di poi ripiantarli ma 11 non sembrano in gravi condizioni e quindi ci sono un po' dei problemi per quanto riguarda questo provvedimento invece a Piobbico subisce un grave danno un agriturismo perché una cava vicina solleva nuvole di polvere e ovviamente non depone per l'attività un'attività di carattere turistico che esercita l'agriturismo il quale ha bisogno di un contesto paesaggistico di un panorama piacevole invece il panorama circostante è sempre offuscato da nuvole di polvere e l'attività della cava contrasta con quella dell'agriturismo protesta quindi il proprietario della Capra Reccia di Piobbico un ristorante di 150 coperti camere e appartamenti con solarium piscine alimentate da acque sulfure uno scivolo lungo 22 metri queste sono un po' tutte le strutture di questa struttura a Pergola a Pergola un tentativo di truffa perseguito nei confronti di un'anziana per fortuna anche questo non è andato a buon fine ma veramente non c'è sosta all'attività dei truffatori una cauzione di 40.000 euro se no tua figlia va in carcere questo il sunto di una telefonata che ha ricevuto una signora che doveva consegnare una cauzione di 40.000 euro per liberare appunto la figlia la figlia che sarebbe stata coinvolta in un incidente la cui vittima sarebbe stato un bambino che era in fin di vita la donna sarebbe stata arrestata e quindi per liberarla la madre avrebbe dovuto pagare questa somma la mamma lì per lì c'è cascata il truffatore le ha detto di tenere sempre acceso il suo telefonino per evitare che telefonasse chi desse informazioni a qualche altra persona però la donna è stata furba questa volta andando in banca a prelevare la somma ha scritto quello che gli stava accadendo in un bigliettino e l'ha consegnato al dipendente della banca stessa il quale ha capito subito di che cosa si trattava e ha chiamato le forze dell'ordine una cauzione di 40.000 euro se no tua figlia va in carcere non ci cascate mi raccomando veniamo anche alla pagina di Senigallia derubati dalle catenine in discoteca l'incubo della lanterna ritorna era proprio il disegno di derubare alcuni giovani che in quel momento si stavano divertendo alla lanterna di Corinaldo tutto quello che è accaduto dopo la tragedia che è montata e che è accaduta in seguito ebbene questo non ha imparato nulla non ha insegnato nulla appunto a certi malviventi i quali ritentano con la stessa strategia volevano rubare le catenine e le hanno fatto tre ragazzi che ballavano alla discoteca si tratta del mamma mia ballavano hanno detto di essere stati derubati dalla loro catenina e nella confusione non si sono nemmeno accorti chi è che ha compiuto il furto ebbene i giovani si sono rivolti ai carabinieri dopo il furto in pista al mamma mia la direzione ha reagito dicendo che sono casi isolati ma basta un caso perché poi la tragedia si consumi ancora una volta quindi è un episodio da tenere da valutare con la massima attenzione vediamo anche le pagine della regione che evidenziano per quanto riguarda il settore della pesca ancora l'agitazione dei pescatori pesca un altro stop merluzzi e sogliole venduti a peso d'oro ebbene le cifre nei mercati ittici anche all'ingrosso raggiungono prezzi alle stelle vediamo appunto un merluzzo che va dai 5 ai 10 euro al chilo le sogliele fino a 25 gli scampi fino a 60 euro e insomma sono le cifre che persa poco sono le stesse in tutti i mercati ittici in questa pagina il Corriere evidenzia le quotazioni del mercato ittico di Ancona e del mercato ittico di San Benedetto del Tronto ma anche a Fano la situazione anzi a Fano il pesce non c'è quasi per niente perché viene rifornito il mercato soltanto dai prodotti pescati dalla piccola pesca mentre la pesca d'altura è ferma ormai da tre settimane le bongolari invece vanno avanti in mare per due settimane prima del fermo biologico siamo solidali fin dall'inizio con i pescatori ha spiegato Tonino Giardini ma non sarebbe stato inutile fermarci in queste ultime due settimane domani, ovvero oggi inizia il periodo in cui il nostro compartimento ha scelto di fermarsi per lo stop biologico e dunque questi ultimi giorni di lavoro servivano insomma anche loro osservano diversi fermi molto più della pesca della pesca alle altre specie itiche i bongolari per custodire per coltivare il loro mare sono obbligati a sostare di più appunto degli altri pescatori e veniamo agli esami vediamo agli esami che devono sostenere gli studenti ormai l'anno scolastico è terminato per tutte le altre castesi ma chi ha frequentato la terza media e la quinta liceale o la quinta superiore deve sostenere questa prova importante per la vita di uno studente medie via l'esame maturità post-covid la carica dei 13.000 su indicazioni del Ministero della pubblica istruzione gli esami per il primo ciclo ovvero per le scuole medie dovranno svolgersi nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico ovvero il 9 giugno e il 13 giugno cioè da oggi fino al 13 mentre per gli studenti delle superiori su base nazionale si partirà il 22 giugno con la prima prova scritta di italiano alla quale poi seguiranno una seconda prova scritta e il colloquio orare sono 14.157 gli studenti marchigiani chiamati a sostenere l'esame di licenza media anche i più piccoli dunque hanno così la necessità di sottoporsi a questa prova importante anche dal punto di vista diciamo così non solo fisico perché poi si suda studiando almeno chi lo fa ma anche dal punto di vista intellettuale oltre 14 milioni di euro al comparto dell'arredo ora dalle parole ai fatti il vicepresidente della regione Carloni ha presentato le strategie al tavolo di lavoro sul sistema casa ad ottobre si aggiungeranno anche le risorse della nuova programmazione europea e sono fondi risorse in denaro i manager marchigiani hanno le competenze per aiutare la ripresa lo ha dichiarato il presidente di Federmanager Marche Roberto Rocchegiani creare valore nel rispetto della sostenibilità ha dichiarato ed ora vediamo in modo particolare la pagina di Pesaro dove si parla della raccolta dei rifiuti in centro storico ebbene dal 16 giugno prossimo verrà attivata una modalità di raccolta innovativa domiciliare in alcune vie del centro la raccolta secondo il calendario di Marche Multiservizi dovrà iniziare alle ore 21 e poi per il potenziamento della polizia sempre in centro sono a disposizione due persone in più con un mezzo elettrico per la polizia dei cestini questo nelle vie principali appunto del centro storico ed è la zona di passeggio intorno alla palla di Pomodoro sulle lungomare dalle 16 alle 22.30 per sei giorni a settimana Marche Multiservizi parte dalle vie di maggiore attrattiva dove si svolge più intenso il passeggio invece per i deoors e per gli spazi all'aperto il fai da te ai giorni contati si stringono sempre più i tempi a questo proposito per adeguare gli arredi alle regole della soprintendenza ormai i pubblici esercizi tutti sanno che oltre ai gazebo e agli ombrelloni con forme e coperture di un certo colore anche le sedute devono essere uguali tra loro grigio antracite e a quattro gambe sono queste le disposizioni che ha impartito la soprintendenza in modo da così evidenziare un aspetto coordinato di tutte le strutture del centro storico insomma dell'infrastruttura del centro storico che sono esposte al di fuori dei locali e ancora il problema dei rifiuti viene evidenziato in quest'altra pagina del Corriere rifiuti indifferenziati in spiaggia la raccolta a scadenza quotidiana giriamo ancora la pagina per vedere per vedere una iniziativa interessante dal punto di vista culturale un tuffo nella bellezza dell'ottocento in onore del letterato Giulio Perticari Giulio Perticari è quel personaggio che in piazza del popolo a Pesaro è raffigurato in una scultura nella fiancata della chiesa di San Domenico quella che prospetta la piazza da una parte c'è Gioacchino Rossini e da parte c'è Giulio Perticari nel luogo nei luoghi del cuore del poeta questo illustre letterato dell'ottocento ci saranno sedici iniziative il cluco nel picnic rossiniano in costume quindi è un omaggio speciale quello che la città di Pesaro tributa al suo concittadino un grande poeta un grande poeta letterato dell'ottocento ebbene dalla biblioteca oliveriana al picnic rossiniano negli orti giugli al museo nazionale Rossini alla fonte dei poeti fino a palazzo Cassi di San Costanzo dal 10 al 26 giugno nei luoghi frequentati appunto da Giulio Perticali ci saranno iniziative e sarà come fare un tuffo nella storia e nei costumi nella società di oltre un secolo fa vediamo ancora un articolo che riguarda Urbino dove oltre al compleanno del Duca si festeggia e si organizza la Straducale un'altra grande festa e venti al via già domani domenica correrà anche Giovanni Carboni una maratona di spining e premio Aido la Straducale di Urbino dunque è alle porte si parte alle 8 di domenica prossima da sotto i Torricini ma le attività collaterali iniziano venerdì sera e ce ne sono molte a questa iniziativa sono già iscritti mille atleti che correranno e saranno circa 200 i volontari sulle strade per assicurare la sicurezza di tutti gli atleti in modo particolare negli incroci chiudiamo il Corriere Adriatico ed apriamo il resto del Carlino dove l'apertura è dedicato alla protesta di un cittadino fanese per quanto riguarda l'occupazione di un parcheggio con un cantiere che è fermo è fermo di da diverso tempo e siccome la fame dei parcheggi è molto alta in città e questo cittadino si chiama Baldassaretti è un fanese di 70 anni che è arrivato in città da poco prima ha lavorato anche all'estero ebbene non capisce perché appunto questa area preziosa venga occupata lasciata così in abbandono da tanto tempo senza che il cantiere proceda e non ha tutti i torti ovviamente una iniziativa importante invece dal punto di vista ambientale ciclistico è quella che verrà organizzata dal Comitato Ciclovia del Metauro domani alla Memo alle 16.30 sappiamo come il Comitato Ciclovia del Metauro si impegna lotta perché appunto questa ciclabile e la Fano Urbino venga realizzata a fianco della Ferrovia senza tante tortuosità immaginate dalla Regione Marche è un convegno serve a ravvivare questo problema serve ha detto Renzo Rovinelli che è un componente appunto del Comitato serve che serve un salto di qualità per capire che la bicicletta è un vero e proprio strumento economico e poi se Fano vuole intercettare i turisti della bicicletta non ha bisogno di piste ciclabili che passino tra i capannoni industriali come quello che ho detto cioè con le tortuosità ma di percorsi sicuri agevoli e attrattivi come quelli sponsorizzati appunto dal Comitato anche qui abbiamo la replica del Vice Sindaco Fanesi agli stimoli di accelerare l'approvazione e l'inizio dei lavori per quanto riguarda la variante di Gimarra l'ultimazione dell'Interquartieri ha detto ma quale lentezza andiamo spediti e il Vice Sindaco replica le accuse del suo partito sul progetto della variante incontro in provincia per porre le basi del percorso e proprio nei giorni scorsi è nato scusate nei giorni scorsi Fanesi ha incontrato il Presidente Paolini per concordare un programma di interventi il Comune vuole risparmiare intanto paga è il modo con cui il resto del Carlino annuncia la Costituzione dell'Ufficio Energia intanto paga perché insomma paga le consulenze paga l'incarico si tratta di 45 mila euro che l'amministrazione comunale ha dato alla società Fanese Enereco che dovrà studiare gli interventi per contenere i consumi energetici appunto dell'amministrazione comunale il Comune spende moltissimo per quanto riguarda la luce il riscaldamento e tutti gli altri servizi che insomma sono già di particolare peso alle famiglie e quindi anche il Comune non è esente dagli aumenti e poi vediamo a fondo pagina in fondazione si parla la lingua dei giovani quattro giorni di incontri dal 30 giugno al 3 luglio per rendere gli under protagonisti del territorio e qua invece una bella iniziativa del Rotary Club che pone all'asta alcuni quadri quelli che hanno dipinto gli artisti che hanno organizzato una mostra al Pincio nel 2021 verranno messi all'asta per aiutare i profughi ucraini sugli allagamenti vi svegliate dopo anni sugli allagamenti scusate sugli allagamenti vi svegliate dopo anni e la reazione di Bonaccorsi che è il leader della minoranza alle dichiarazioni del sindaco di Mondolfo per quanto riguarda gli allagamenti di Marotta il sindaco ha così evidenziato che vi saranno degli investimenti per realizzare un nuovo canale di raccolta delle acque piovane però insomma l'opposizione insorge dice vabbè sì lo fate però lo fate in ritardo insomma anche qui bisogna dare un colpo alla botte e uno al cerchio a Pergola volevano truffare un'ottantenne per 40.000 euro ma lei non si fa fregare e di questo abbiamo già parlato poi voglio parlarvi anche della straducale della straducale di Urbino che parte dove parte la carica dei mille tra i partecipanti anche un finlandese pensate Urbino e Montefeltro insiste la pala di Brera torni in città ebbè sarebbe veramente una bella notizia quella che questo grande capolavoro che ora è a Brera ritorni a San Bernardino da dove è stato tolto da dove è stato rubato è una componente importante fondamentale per capire il disegno del Duca Federico per quanto riguarda il suo mausoleo e il sigillo dell'Ateneo universitario sarà dato al professore del volley ovvero a Davide Mazzanti di Marotta commissario tecnico che guidò la nazionale femminile di pallavolo alla vittoria agli europei riceverà il riconoscimento che è un po' il riconoscimento più grande che l'università può dare a chi si è distinto in diversi settori per quanto riguarda Pesaro voglio segnalarvi un intervento in via Cialdini la ciclabile non si fa più al centro e in via De Gasperi spariscono nove parcheggi va in archivio secondo l'amministrazione comunale il progetto di cui si è parlato per mesi l'assessore Belloni l'idea era bella ma purtroppo anche scomoda quindi si è riflettuto e si è cambiato registro la pista sarà dunque realizzata in modo più classico sui due lati della strada come succede in via della Repubblica ed ecco il volo dei gabbiani di Vangi questa bellissima scultura guardate che virtuosismo che verrà eseguito posizionata ieri l'opera dell'artista che ha 91 anni e che ha guidato passo dopo passo l'installazione l'obiettivo è quello di esprimere la bellezza della libertà e del movimento rappresentante il mare guardate il movimento di questa scultura di questa articolazione tra i gabbiani appunto l'uomo che alza il braccio al cielo per inneggiare alla vita ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento alle 7 di domani intanto vi auguro buona giornata a risentirci e vi dà appuntamento a risentirci a risentirci Grazie a tutti.